Altra cronaca dal sud, a te Marcella. Nel Foggiano c'è stato un agguato contro il fratello di un boss al vertice della criminalità locale. L'uomo è rimasto ferito, allora com'è andata? Che cosa è successo? Lo chiediamo a Renato Piccoli. Potrebbe trattarsi di una nuova faida per ristabilire gli equilibri tra i numerosi clan della mafia del Gargano, di un regolamento di conti in stile mafioso per questioni personali, di certo dopo le decine di proiettili, scaricati a Monte Sant'Angelo su Parabrezza del Mezzo, guidato da Giuseppe Ricucci, fratello del capo del clan omonimo, ucciso nel 2019 davanti alla sua abitazione. La prefettura ha disposto un'intensificazione dei controlli sul territorio, dove al momento, pensate, ci sono ben quattro comuni sciolti per mafia, tra cui proprio Monte Sant'Angelo, mentre a Foggia è a lavoro una commissione del Viminale per verificare eventuali infiltrazioni della criminalità. Chi ha sparato al 45enne lo ha fatto per uccidere, l'aguato lungo la statale 89, mentre l'uomo era alla guida di un furgone per la raccolta dei rifiuti. Ricucci, di fatti, lavora per una società incaricata dal comune, società destinataria ad una interdittiva antimafia, prima di essere sottoposta a controllo giudiziario. Oltre al territorio, che alza il livello di guardia con reparti interforze, si indaga in queste ore a ritmo serrato, soprattutto per stabilire eventuali connessioni con fatti di mafia. L'uomo rimasto ferito al volto e al torace non dovrebbe essere in pericolo di vita. Da Bari è tutto.